Ma tu hai capito sto boia? Ma dico hai capito? Va a fare del bene, Navi, va. Voglio lavorare! Voglio lavorare! E vieni a lavorare, vieni a lavorare con me. Te ripulisco, te faccio vedere come sono fatti i soldi. E poi grazie, grazie tanto, mi dici. Ma io me lo merito, io me lo merito. Oh, non ciò! E quell'altro buffone napoletano, cari ortello a mano, spara, spara, e spara! Ma che spari? E io sparavo per far piacere a te. Ah, sparo io, spari tu. Ma che fai, mocca e colà? Don Raffaele Tramondano! Ma chi sei? Ma che vuoi? Ma tu senza quei quattro morti di fame, chi sei? E mi dici a me vattene, e mi dici a me vattene! Ma tu a me non me lo devi dire perché io me ne vado! Io me ne vado! Scusa, dove vai? Dove pare? Dove voglio? A Mosca, a Bruxelles, a Parigi, dove voglio? No! No! Io l'Europa la lascio! Io l'Europa non la voglio più lavorare! Io me ne vado in Giappone, hai capito? In Giappone! E te faccio vedere se non so capace di vendere il raglio per seda naturale ai giapponesi! Quando uno c'ha il cervello e conosce tutte le lingue! E di che episodio? Ma devi aprire, e capirai! Me ne so portate via uno di pezzo al tedesco! Fanno il strillo di niente, fiderlo qua non se ne accorge! Iste putanzai! Tutto neffrecato, tutte pezze l'amence di cotone! Ma davvero quello si credeva che senza lui poteva lavorare? Oh! Ma io basta che voglio! Dove trovo lavoro? Dove trovo io lavoro? Oddio!